annunciate dai tetti presenta il nostro audio quotidiano buongiorno amici e amiche buon giovedì 5 maggio 2022 ascoltiamo il vangelo secondo giovanni capitolo 6 versetti 44 51 disse gesù alla folla nessuno può venire a me se non lo attire il padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da dio chiunque ha ascoltato il padre e ha imparato da lui viene a me non perché qualcuno abbia visto il padre solo colui che viene da dio ha visto il padre in verità in verità io vi dico chi crede alla vita eterna commenta il vangelo per noi tommaso fucci la vita eterna è ciò che spesso più incuriosisce una persona ma che cos'è la vita eterna vivere alla presenza di dio credere comporta dedizione sacrificio disponibilità è difficile credere ma se non ci fosse dio con noi non riusciremmo mai a dedicarci al servizio di cui il popolo di dio ha bisogno tutti gli sforzi vengono ripagati con la vita eterna vogliamo credere buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti